salve a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi farò un video dove diciamo dirò un po' di parole che vi rilasseranno quindi cominciamo la prima parola è tranquillità 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 la prossima parola è trottola 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 Tranquilità 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 Tranquillità La prossima parola è Tranquillità 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 Buonanotte 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 buona notte buona notte buona notte buona notte